sono in attesa di vedere un po di youtube non fare dei video riguardo a genoa juventus dove tifosi da juventus non potranno partecipare alla trasferta di genoa dato che il juventus napoli tutti hanno fatto i tifosi tutti hanno fatto quelli che che manifestavano vergogna riguardo tifosi del napoli e poverini non potevano andare a torino infatti dopo quello che è successo nel minuto di silenzio per schillaci forse era meglio che stavano a casa comunque non vedo tutta sta gente indignarsi riguardo tifosi da juventus che non potranno partecipare alla trasferta di dimarassi sarà che forse in giornata qualche video uscirà io intanto mentre vado al lavoro sono paziente aspetto che quando avrò finito questa sera di vedere qualche video su youtube riguardo a questo argomento dato che quando è qualcosa contro la juventus tutti stanno in silenzio tutti tacciano quando è qualcosa a favore la juventus tutti si indignano quindi voglio aspettare con calma che qualcuno faccia dei video riguardo a genova juventus dove tifosi da juventus non potranno partecipare alla trasferta di genoa poi non dimentichiamo di genuani con chi sono gemellati aspetto con ansia